Buongiorno a tutti e benvenuti nella radio web del Montale. Sono Ludovica e qui accanto a me vi presento Nicole. Ciao a tutti. Ci troviamo qui oggi per trattare l'argomento più aspettato da tutti noi ragazzi, l'estate. L'estate è la stagione più attesa da ognuno di noi, un momento di pace, libertà, emozioni ed amori estivi. È proprio così. Quando si vive un amore estivo si sente pieni di energia, si vive in una routine differente da quella quotidiana e il cambiamento stimola anche la voglia di nuove relazioni da vivere. Un amore all'improvviso che rende l'estate indimenticabile. Alla fine dell'estate è e non sempre questi amori durano, anzi per esperienza personale quasi mai, ma sarà qualcosa che ricorderai per sempre e che farà rivivere la stessa emozione ogni volta che ci pensi. L'amore estivo è una delle tante sensazioni che un ragazzo possa provare in estate. Sappiamo bene che in estate si fanno nuove conoscenze, dove da una semplice amicizia potrebbe nascere un sentimento più forte. Fare passeggiate in riva al mare con la persona con cui ti vivi l'estate è un altro tipo di emozione che chi non la prova non potrebbe mai capire. Un amore estivo deve innanzitutto emozionare. Può aiutare a superare una perdita amorosa, un tradimento o un abbandono. Può confondere ed essere utilizzato come una non scelta amorosa. Come ho già detto, questo tipo di amore è una vera e propria avventura e se dopo tante emozioni l'amore estivo diventasse uno sconosciuto, io rispondo così, vivere l'attimo. L'intensità di un attimo può anche rimanere tale e rimanere incastonata per sempre nel cuore. È così che noi ragazzi lo viviamo, senza pensarsi troppo, puntando solo a viverci l'estate come se fosse l'ultima. Ognuno di noi ha avuto almeno una volta nella vita il primo amore estivo, quel ragazzo o ragazza con cui passi le giornate, le notate. E si sa, quando si è ragazzi si vogliono conoscere sempre più persone, soprattutto in estate. E per questo nascono sempre nuovi amori estivi che chissà potrebbero diventare l'amore della propria vita. Capiterà sicuramente o sarà già capitato a ognuno di voi e ricordate che rimarrà sempre un pezzo della vostra vita. Ci vedremo prossimamente e non dimenticate mai di godervi appieno ogni estate che passa. Fateci sapere come sarà la vostra estate, mi raccomando. E chi lo sa, magari la passerete con il vostro amore estivo. Ciao!